Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 146esima puntata del podcast di Marcos Box. Mamma mia che caldo che inizia da fa' le zanzare, maledetta zanzare. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare i convoghi principali notizie nel mondo del software libero open source. Questa puntata sarà particolarmente dedicata a Canonica perché ci sono diverse notizie, diversi sviluppi sulle prossime versioni di Ubuntu che renderanno la distro più snap centrica rispetto a quanto è adesso. Se già adesso non la toglieravate, poi dopo che vuoi di caffè. Apriamo la puntata parlando di KDE con due notizie che sono davvero interessanti. Uno in particolare ci svela alcuni retroscena dietro lo sviluppo di ASAI Linux. ASAI Linux la conoscete, quella distribuzione o meglio quel progetto perché non è soltanto una distribuzione volto a portare Linux sui computer, sui Mac dotati di processore Apple Silicon, quindi gli M1 e gli M2. Sapete bene che è un lavoro immane quello che stanno facendo gli sviluppatori di reverse engineering per poter adattare Linux a questo tipo di processori, per poter farli funzionare, per poter far funzionare tutto l'hardware di questa piattaforma, hardware di Apple. Sapete che la distribuzione ASAI Linux utilizza KDE. Perché? Vi siete mai chiesti perché utilizza KDE e non, che ne so, GNOME o XFSE? Bene, il motivo ci è stato svelato da Hector Martin Cantero, sviluppatore principale del progetto ASAI Linux, che è su Mastodon. A proposito, sono anche su Mastodon, quindi seguitemi e iscrivetevi anche lì. Dicevo, Hector ha pubblicato su Mastodon un lungo post che spiega come mai è stato utilizzato a KDE come ambiente desktop predefinito per ASAI Linux e i motivi sono facilmente intuibili da molti di voi. La prima motivazione è puramente personale, Hector utilizza KDE ed è più facile per cui risolvere eventuali problemi. L'altra motivazione risiede nelle esperienze positive che ha avuto interagendo con la community di KDE. I bug vengono corretti, gli sviluppatori si preoccupano delle segnalazioni e quindi gli sviluppatori di ASAI Linux hanno già risolto diversi bug, aggiunto nuove funzionalità per migliorare l'esperienza su Mac e molti degli sviluppatori di ASAI Linux spesso contribuiscono a monte e aiutano anche a guidare le discussioni su come affrontare determinati problemi. Quindi c'è una forte sinergia tra gli sviluppatori di ASAI Linux e quelli di KDE. L'altro motivo infine è che è dovuto anche alla configurabilità di KDE perché sapete bene che KDE ha una configurabilità molto buona, anzi a volte anche troppo, ed è possibile fornire delle piccole modifiche alle impostazioni predefinite per migliorare l'esperienza predefinita e quindi questo è tutto a vantaggio del team di sviluppatori di ASAI Linux per ottimizzare meglio la distro sull'hardware, sui processori Apple M1. Quindi diciamo, KDE è un ambiente stimolante, un ambiente accogliente per il sviluppatore, quindi il team di ASAI Linux si trova veramente bene a collaborare con KDE. Voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con la scelta di ASAI Linux? Siete anche voi del team KDE? Sapete bene che io sono sempre stato un utente di KDE anche se nell'ultimo periodo devo ammettere che mi sono accasato su distribuzioni gnomecentriche e sto continuando a utilizzare, in questo momento ad esempio sto utilizzando PopOS. A me piace smanettare, a me piace cambiare i parametri e tutto, però il buon default che ha GNOME non lo trovo su KDE. Sappiamo bene che il team di KDE è a corrente di questa cosa e infatti, come vi ho detto nella precedente puntata, è a lavoro per migliorare le opzioni di default, la configurazione di default di KDE in modo tale da essere più accogliente per gli utenti e speriamo che ci riescano. Così magari ritorno su KDE e sono nuovamente lì a vestire i panni di Captain Kubuntu. Se non vi ricordate questa cosa, non siete elettori di Marcosbox da anni, quindi andate a recuperare tutti quanti gli articoli scritti nel costo degli anni. Cercate la sigla segreta. Vi dico solo questo. E continuiamo a parlare di KDE con un invito rivolto a tutti quanti gli utenti temerari, ansiosi di provare, e tutti sì. Il team di KDE Neon ha chiamato a raccolta la sua community di smanettoni per aiutare gli esiglupatori a testare un importante cambiamento appena arrivato sul ramo instabile della distro. Gli esiglupatori della distro o non distro, perché di fatto KDE Neon è una non distro per la stessa ammissione da parte degli esiglupatori, hanno avviato qualche giorno fa il reporting alle QTC di KDE Plasma e KDE Frameworks. L'hanno fatto sul ramo instabile di KDE Neon, quindi KDE Neon Unstable Edition. Ovviamente in questa fase iniziale la maggior parte dei pacchetti è affitta da bug, quindi preparatevi a far da cavia, armatevi di tanta pazienza e cercate di scovare nuovi bug e eventualmente contribuire a risolverli. Ovviamente se siete utenti normali e volete un PC funzionante, tenetevi assolutamente alla larga dalle build instabili di KDE Neon, per meno i prossimi 4-5 mesi, o meno fino a quando lo sviluppo di KDE Plasma 6 non si sia stabilizzato. Fatemi sapere se siete tra i volontari pronti a testare il reporting dei QTC di KDE Plasma e KDE Frameworks e fatemi sapere che cosa ne pensate, che magari lasciate un commento nell'articolo dedicato. E apriamo adesso la parte dedicata alle notizie riguardanti le distribuzioni Linux. Dopo aver parlato di KDE Plasma, parliamo di XFCE nella sua nuova incarnazione pensata e partorita nella mente degli sviluppatori di Rhino Linux. Torniamo a parlare di Rhino Linux, e lo facciamo dopo diversi mesi dall'annuncio di questa distribuzione. Rhino Linux, ex Rolling Rhino Remix, scoperte che non ci avete capito niente perché sono troppo R e mi sono incartato. Dicevo, è una distribuzione tipo Rolling Release basata su Ubuntu e caratterizzata dall'utilizzo di Packstall come gestore pacchetti e XFCE come desktop environment. L'ultima volta che vi ho parlato di Rhino Linux è stato ottobio del 2022, quando era stato fatto l'annuncio del cambio di nome della distro, ed era stato annunciato anche l'adozione di XFCE come desktop environment della distribuzione. Andatevi a recuperare la puntata, andatevi a recuperare il perché è stata scelta XFCE. XFCE è stato scelto, in quanto XFCE è da sempre rinomato per la sua stabilità e velocità, e quindi di conseguenza hanno voluto, per una distro di questo tipo, utilizzare un desktop environment che è veloce, che è stabile. E a mio avviso lo avranno fatto anche perché non avendo rilasci frequenti, è più semplice da gestire. Però si sono dati la zappa sui piedi. Perché si sono dati la zappa sui piedi? Perché in concomitanza del riascio della quinta beta che è avvenuto a metà maggio, hanno annunciato l'introduzione di un nuovo, non desktop environment, ma... non è un desktop environment di fatto, è un'implementazione di XFCE, chiamiamola così, ecco. Una propria implementazione di XFCE chiamata Unicorn Desktop. Che cos'è Unicorn Desktop? Unicorn Desktop è un ambiente grafico che fa utilizzo di XFCE con una dock, in questo caso plank dock, e alcune modifiche quella, come l'introduzione di un launcher in stile spotlight per la ricerca delle applicazioni, una gestione della griglia delle applicazioni che viene fatta mediante Lugpad, che è un lanciatore di applicazioni semplice, potente, compatibile con Wayland. E poi hanno fatto, hanno aggiunto XF Dashboard, che è un... praticamente... consente di avere un'esperienza in stile Gnome Shell con un expose integrato direttamente in XFCE. Di fatto, diciamo, cioè, se guardate gli screenshot, hanno, come ho detto prima, hanno gnomizzato l'ambiente, la gambiente dextro, hanno gnomizzato XFCE. Dice a questo punto, perché no? Hanno scelto Gnome, e ve l'ho detto secondo me, perché è il vero motivo per cui non hanno scelto un altro desktop environment, hanno preferito scegliere qualcosa di facilmente mantenibile, ma soprattutto qualcosa di stabile e che non riceve aggiornamenti nel tempo. La distro è una distro rolling, porto un concetto di distribuzione rolling su Ubuntu, quindi già stanno tante cose da cercare di far funzionare. Se ci mettevi pure il desktop environment da pulire, da deubuntizzare, perché da togliere tutte quante le patch di Ubuntu, sarebbe stato secondo me per un bagno di sangue, quindi hanno optato per XFCE. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa distribuzione. Secondo voi c'era la necessità di una distribuzione di questo tipo, ma soprattutto c'era la necessità di andare a fare un'esperienza desktop alternativa con XFCE in un mondo popolato già da tantissimi N.000 desktop environment e quant'altro. Fatemi sapere, lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox. Beh, e adesso apriamo il filone della puntata dedicato a Ubuntu, e lo facciamo con la prima notizia riguardante il termine del supporto standard ufficiale di Ubuntu 18.04 LTS, perché oggi, 31 maggio 2023, sto registrando la puntata del podcast, ed è anche il giorno in cui cessa ufficialmente il supporto di 5 anni, il supporto standard di 5 anni per la versione LTS di Ubuntu. Questo significa che a partire da domani, tutti quanti le nostre installazioni di Ubuntu 18.04 LTS non riceveranno più alcun aggiornamento di sicurezza. Che cosa fare in questo caso? Beh, la cosa più semplice, se non avete un ambiente di sviluppo critico, passate alla nuova LTS, passate a Ubuntu 22.04 LTS. Se invece siete utenti azientali, avete la necessità di continuare a utilizzare Ubuntu 18.04 LTS sulla vostra infrastruttura, per qualsiasi altro motivo, Canonica ci ha tenuto a ricordarci che è possibile attivare un abbonamento ad Ubuntu Pro, che ci consente di ricevere expanded security maintenance ESM per gli amici e poter ricevere patch di sicurezza di tutti i pacchetti Ubuntu sino al 2028, precisamente aprile 2028. Quindi, tanto vi dovevo a voi la scelta, comportatevi di conseguenza, ma passate alla nuova distribuzione, se volete rimanere su Ubuntu, passate alla nuova LTS, fate prima. E tanto non penso che in mezzo di voi ci siano degli utenti aziendali che seguono i blog, che sono interessati a rimanere sulla 18.04 e quindi sono interessati ad acquistare Ubuntu Pro. Vabbè, comunque, fatemi sapere nei commenti. E passiamo adesso a parlare della notizia che vi avevo data in apertura, ovvero del fatto che Canonica sta diventando sempre più snap-centric e che Ubuntu sta diventando sempre più snap-centric e che ci aspettano tanti snap in futuro. La prima notizia che vi devo dare riguarda una notizia, una dichiarazione, che arriva direttamente dalla bocca di Till Cuppeter. Se sentite gli spari in questo momento, è perché il Foggia ha appena vinto la partita con il Crotone, e quindi, come si chiamava, i play-off, che era, vabbè, insomma, quelle cose per salire di livello nel calcio. Dicevo, la notizia riguarda una indiscrezione che è stata data da, una dichiarazione che è stata fatta da Till Cuppeter, esecupatore di Canonica, nonché responsabile del progetto Open Printing, che ci ha informato che a partire da Ubuntu 23.10, nome in codice Mantic Minotaur, troveremo QPS in formato snap pre-installato sulla list. Questo significa che tutto il sistema di snap-bar sarà basato su pacchetti in formato snap. Il pacchetto di Cups è già disponibile in formato snap, se lo volete testare, è già presente sullo snap source. E se, da quel che ho potuto vedere, già da tempo viene anche installato come dipendenza in caso di installazione di Chromium. Sapete bene che Chromium su Ubuntu è in formato snap. Quindi, molti di voi già se lo ritroveranno se hanno installato Chromium in formato snap. Io non so voi, ma io già da ora ho problemi con le stampanti. Sono lo stalman italiano, lo stalman pugliese, cervello e capelli a parte. Figuriamoci cosa accadrà nel mio caso quando ci sarà il passaggio a Cups in formato snap. Mi terrò la raga da Ubuntu per i prossimi anni a questo punto. Mi preoccupa comunque questo passaggio, perché sapete bene che già la stampa su Linux dà problemi. Figuriamoci, quando ci sarà il passaggio a Cups in formato snap. O magari, che ne so, chi lo sa, alla fine questo sarà il coltellino svizzero, sarà la chiave di volta, sarà la soluzione, quella definitiva per risolvere il problema della stampa. Non lo sapremo, non lo sapremo fin quando ci potevamo mettere mani. Quindi, preparatevi, preparatevi a testare. Fatemi sapere se anche voi siete stampatori fogli, come è sottoscritto. Preparatevi, preparate le vostre tonne, preparate le vostre inchiostre. E passiamo adesso alla notizia, al pezzo forte di questa puntata. Oliver Grauert, sviluppatore di Canonical, perché mettono tutti i nomi con... Assumite gente con i nomi senza R, con i nomi senza R, perché ogni foto trovo difficoltà a pronunciare i nomi di questi tizi. E mi dispiace anche. Comunque, dicevo, Oliver Grauert, sviluppatore di Canonical, rispondendo a un commento sul famoso sito Oh My God Ubuntu, dichiarando che la prossima versione LTS di Ubuntu verrà rilasciata in due versioni. Una versione classica, basata su Debe, che ovviamente sarà la versione predefinita di Ubuntu, e per la prima volta verrà rilasciata una build di Ubuntu Desktop immutabile, basata su Snap. Ovviamente questa edizione di Full Snap è rivolta a tutti quegli utenti desiderosi di sperimentare una versione di Ubuntu immutabile che non si lasciano scoraggiare dai problemi intrinsechi del formato Snap, che per sua natura è un formato immutabile. La decisione di rilasciare questa versione immutabile di Ubuntu con solo i pacchetti in formato Snap però non è una sorpresa, diciamocelo, perché già da 2015 Canonical ha iniziato a sperimentare una distribuzione chiamata Ubuntu Core che è una versione immutabile di Ubuntu basata su Snap pensata per dispositivi IoT e Embedded. Questa nuova versione, anzi è meglio, questa evoluzione di Ubuntu Core per desktop che è stata poi, fra l'altro, confermata da Canonical con un posto sul blog della Distro che ho aggiunto poi successivamente all'articolo dopo averlo pubblicato, di fatto è, dicevo, non è una sorpresa ed è una naturale evoluzione di Ubuntu Core, finalmente appunto vediamola in azione sul desktop e consente poi a Canonical di fatto di andarsi a lineare con il trend nel momento che vede il rilascio di sempre più distribuzioni immutabili. Sapete bene che Fedora ha la sua Silver Blue, Open Source ha la sua Micro OS, di fatto anche Google ha il suo sistema operativo immutabile che è Chrome OS basato su Linux. Quindi il trend del momento è quello di realizzare distribuzioni immutabili che aumentano la sicurezza e che vanno a risolvere anche altri problemi per quanto riguarda la solidità della distribuzione e che dire, io questa sì, questa la vorrei provare, Ubuntu Core vorrei metterci le mani su. Spero che Canonical però in virtù della decisione di utilizzare una distribuzione desktop fatta in questo, in si fatto modo riesca, riesca prima del rilascio di questa distribuzione riesca quantomeno nelle fasi iniziali a cercare di perfezionare ulteriormente il formato Snap perché sapete bene che il formato Snap sta diventando odioso sia per la lentezza sia per il fatto che i pacchetti in formato Snap non vengono aggiornati quindi speriamo che questa decisione di rilasciare una versione desktop di Ubuntu di Ubuntu Core immutabile basata su pacchetti in formato Snap vada a migliorare il formato Snap che è il grande taglone di Akige di Ubuntu nonché la sua diciamo così grande forza rispetto all'altra distribuzione perché ha lanciato questo formato di pacchetti è l'unica a supportare questo formato di pacchetti cioè meglio sponsorizzare questo formato di pacchetti perché anche altre distribuzioni possono utilizzare i pacchetti in formato Snap però come ve ne ho parlato anche nella scorsa puntata sembra che non ci tiene granché a mantenere aggiornato tutti i cucuzzi e ripeto speriamo che questa decisione speriamo che porti tanti benefici a Snap che magari si decidono finalmente a mantenere sempre aggiornati a migliorare finalmente le prestazioni di tutti i pacchetti in formato Snap quindi non soltanto Firefox e qualche autogramma che sono veloce ad avviarsi ma anche tutto il resto del cucuzzi vabbè comunque vedremo vedremo che cosa accada in futuro e terminiamo questa parte della puntata dedicata alle notizie del mondo di Ubuntu con un'altra notizia che potrà far piacere a molti di voi il Gar ma sono mi sto puntata sotto per sto diventando sto diventando mate il che poi sarebbe il consortium Gar è diventato il nuovo mirror ufficiale in Italia per per Ubuntu grazie all'accordo con Canonical Gar diventa il punto di riferimento principale per il traffico italiano quindi che significa significa che potete scaricare le ISO di Ubuntu direttamente dall'indirizzo messo a disposizione dal Gar che ricordo sta per gruppo per l'armonizzazione della rete della ricerca e avere dei download veloci con una minore latenza quindi può far piacere per molti di voi che magari se vi trovate a scaricare una ISO non dovete più imprecare per la lentezza del download e ora passiamo alle notizie che non c'entrò niente con le distribuzioni e parliamo adesso di HP con una notizia che è arrivata da Oltro Oceano che poi ha fatto il giro del mondo perché HP ha fatto una cosa che non dovevo fare una cosa assai grave una cosa che mal si rimedia se in questi giorni avete avuto di mal funzionamenti con le stampanti HP mal funzionamenti quelli leggeri perché sono stati due eventi che hanno portato a lamentare da parte degli utenti il primo evento di cui non viene parlato sulle pagine del blog riguarda un aggiornamento che aveva praticamente barricato le stampanti HP alcuni modelli di stampanti HP un altro problema invece riguardava un altro aggiornamento un film fatto a scorduno così si affoggia che praticamente che cosa è successo è successo che HP ha rilasciato un aggiornamento che è andato a bloccare le cartucce non originali e se in questi giorni vi siete trovati nell'impossibilità di stampare con cartucce non originali sappiate che la coppa è tutta di HP che l'ha fatto intenzionalmente perché ha installato da remoto una modifica che impedisce ai clienti di utilizzare cartucce di inchiosso sprovviste del chip di chip HP la società ha affermato di aver rilasciato questo aggiornamento per ridurre il rischio di attacchi malware realizzati mediante chip di terze parti però vabbè la sappiamo perché HP ha fatto questa cosa HP ha fatto questa cosa perché perché ci guadagna sulle cartucce così come qualsiasi altro produttore di stampanti sapete bene che vengono definiti prodotti Razor Blade cioè è come la ramette la ramette non costa niente costa come si chiama il più picchio costa la lama la lama intercambiabile quello è il vero guadagno che l'azienda ci fa non sulla rametta visto che si può utilizzare più volte quelle che si sostituiscono le testine e la stessa cosa succede con le stampanti il guadagno di parte dell'azienda risiede non nella vendita della stampante che non costa un cavo praticamente della buttona appresso ma nella vendita delle cartucce dei toner e HP ha fatto questo motivo non è la prima volta che HP anche blocca l'utilizzo di cartucce non originali proprio l'anno scorso l'azienda aveva pagato anche una multa di mi ricordo se era un milione e tre tipo di dollari a consumatori di Belgio Italia Spagna Portogallo che avevano acquistato le stampanti senza sapere di essere dotate della funzione del blocco delle cartucce e mannaggia HP che io devo cambiare la mia brother mi stavo indirizzando verso una stampante HP addirittura voglio prendere uno di quelle con i tank eco tank visto quelli che hanno l'inchiosto che si riempie con la bottiglietta che consentono di avere un costo di esercizio più basso e dicono consentono anche alla cartuccia di non avere il problema dell'inchiosto che si secca però se a questo punto si accapinzi a fare l'antipatica mi sa che gli faccio ciò e mi oriento verso altre macchie ammesso di trovarne altre macchie che non fanno questi magheggi perché sapete bene che li fanno praticamente tutti io l'unica che mi fido che fino a ora non mi ha mai dato problemi con i toner compatibili è la mia brother però non so che nuove come si comportano vabbè poi magari se mi scrivete un commento sul blog fatemi sapere voi se avete stampanti se utilizzate stampanti quali stampanti utilizzate su linux suggerimenti scrivite richard mette o starman è ancora vivo e per chi se lo stesse chiedendo è che è lecita questa domanda perché è da parecchio che non sentiamo solo dichiarazioni e quant'altro sapete bene è stato messo un po' in disparte anzi è stato messo fortemente in disparte dalla comunità a seguito di su alcune informazioni andatevi a recuperare le puntate del podcast di marcosbox o leggere gli articoli su marcosbox per sapere cosa ne pensano al riguardo perché secondo me si è stati un po' troppo aggressivi nei confronti di alcune sue dichiarazioni starman lo sapete starman è fatto così prendere o lasciare molto estremista su alcune cose e molte persone l'hanno l'hanno iniziato sono iniziato ad andargli con i forconi addosso e le torce addosso stile mostro senza senza contestualizzare determinate cose va bene andatevi a recuperare tutto quello che è successo e anche tutte quante le lettere di appoggio che sono state fatte a Richard Starman a cui dobbiamo tantissimo dal punto di vista informatico Richard Starman sarà in Italia sarà in Italia il prossimo 5 giugno 2023 per un evento organizzato dal dipartimento dell'informatica e dell'università della Calabria e dell'associazione A Club Cosenza che hanno organizzato un seminario da titolo Digital Freedom and Digital Privacy che vedrà appunto la partecipazione del nostro caro amato Richard Starman Starman come lo volete pronunciare voi il 5 giugno alle ore 15 non è è un ingresso ringrazio aperto a tutti quindi non c'è necessità di prenotazione vi invito ad accorrere numerosi perché i talk di Starman sono sempre interessanti e il talk di Richard Matthew Starman sarà preceduto da una tavola rotonda che esplorerà l'intersezione tra floss e intelligenza artificiale quindi argomenti interessanti argomenti attuali mi dispiace non poter esserci presente a questo evento avrei voluto veramente partecipare a questo incontro però purtroppo mi trovo leggermente distante ma soprattutto mi trovo anche se non ricordo male il giorno 5 a fare una riunione di condominio che devo accompagnare il capo mamma mia quanto odio il condominio e infine chiudiamo questa puntata del podcast di Marcosbox con un editoriale che ho pubblicato sulle pagine del blog che sta riscuotendo anche un discreto successo perché lo sto vedendo che sta viene rimbalzato su diversi social un editoriale dal titolo ho messo nel cassetto smartwatch e smartband per tonare iologi e si ora vivo meglio in questo mio articolo editoriale vi spiego perché dopo tanti anni di dispositivi smartwatch e smartband che ho tenuto sempre a polso ho deciso di accantonarli di metterli da parte di ritornare ad un orologio classico nella fattispecie in questo momento sono in fissa con un un comandischi un un vostro comandischi vintage che mi portò mio zio tantissimi anni fa quando fece un viaggio dalle parti dei paesi ex bloc sovietico e dicevo sono tornato agli orologi normali mi sono riappassionato anche agli orologi normali perché ho sempre ho sempre avuto un orologio opposto fin da quando ero picco e nell'articolo vi spiego perché ho deciso di mandare a quel paese smartwatch e smartband e perché secondo me dovreste farlo anche voi perché secondo me questi dispositivi se da un lato possono essere comodi dall'altro aumentano aumentano anche il livello di stress per via delle notifiche per via anche di di quello che vi viene mostrato perché sapete che questi dispositivi hanno comunque contapassi hanno informazioni sui battiti card 10 sul sonno che sono tutte statistiche magari se poi c'entrate in fissa iniziate a dire madonna mi oggi ho camminato troppo poco oggi ho fatto così c'avevo un battito un po' di più perché vi portano ansia e stress tornate agli orologi gli orologi sono belli soprattutto quelli che hanno la carica manuale o sono quelli automatici come dice il buon Cecchili non vi tradiscono mai perché non hanno la batteria infida e maledetta che vi si scarica nei momenti più importanti quindi tornate agli orologi che gli orologi sono cosa buona e giusta e fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi avete cestinato questi tipi di dispositivi di wearable come si chiamano in gergo fatemi fatemi sapere lasciate un commento sulle pagine del blog ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 146esima puntata del podcast di marcos box come sempre vi invito a iscrivervi su numerosi alle mie pagine social mi trovate su facebook su linkedin su twitter con due profili quello personale quello del pacco mi trovate su mastodon mi trovate su telegram soprattutto dove su telegram sono attive tre pagine una pagina dedicata alle notizie del blog quindi potete utilizzare anche un modo di feed reader abbiamo poi la community telegram dedicata ai lettori di marcos box dove potete commentare notizie ma non soltanto potete parlare anche di qualsiasi altra cosa che vi passa veramente il cazzeggio libero lo sapete bene chi lo segue siamo pochi ma buoni però potremmo essere di più e quindi mi farebbe piacere avere qualche altro membro della tana dei pinguini e infine poi mi trovate anche con un canale telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog sapete come funziona voi acquistate un prodotto amazon uno dei link referral che metto su quel canale e amazon mi darà una piccola percentuale quindi questa potrà potrà essere investita dal sottoscritto per migliorare la postazione e quant'altro e sopperire ai danni che faccio ogni tanto quando rompo il disco perché distacco troppa roba e vi invito poi eventualmente se volete supportarmi a utilizzare anche il codice referral che trovate sulle pagine di marcos box sempre di amazon se volete se non trovate il prodotto se non vi ho postato su un prodotto che vi interessa potete comunque prendere il referral e utilizzarlo voi posizionandolo nel link del prodotto amazon e infine vi ricordo che potete anche supportare il blog mediante l'acquisto di una vpn potete farlo grazie all'acquisto sia di nordvpn che di surfshark che di atlasvpn che sono tre vpn che fanno parte tutta della stessa famiglia su marcos box trovate un articolo a riguardo che vi spiega quali sono le differenze tra queste tre vpn e trovate il link affiliazione e che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana spero con la prossima puntata del podcast di marcos box ciao ciao